Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 2 Questa volta continuiamo ancora la serie riguardante le mimetiche Le ultime uscite, quelle il 23 luglio, quindi già da un bel mesetto Però perché non mostrarle ancora tutte in azione? Infatti come vedete, per chi appunto non sapesse in cosa consiste questa serie Le sto mostrando ogni volta su, sì, magari sulla stessa arma, però quello è mio Aspettate, benissimo Sulla stessa arma, però comunque potete vedere ogni sfaccettatura dell'arma fa un culo quello da dire Noia, ma tu che camperi lì dietro, ma che fai? Comunque vabbè tranquilli, lo andiamo adesso a prendere E gli diremo birichino con una C, ma cosa fai lì dietro? E gli inculeremo l'arma Aspettate No, no Aspetta Qui non si scherza mica Non so se... era lui? Non ditemi che era lui Quello poi giustamente, lui cambia posizione Questa partita secondo me non andrà un gran che Ma noi ci proviamo lo stesso Quell'altro da dietro, io sparo uno e ne arriva un altro Vabbè ragazzi, comunque non importa, tranquilli Uno ucciso Ricarica Bene Si procede, si procede, tranquilli Vinceremo, vinceremo di sicuro, quindi non abbiate preoccupazioni Aspetta Attenzione Un po' di movimento laggiù Un po' di movimento c'era Quello stronzo, ma cosa fa lì? Ancora lui, no, non era lui Non era un altro Vabbè, tre uccisioni ragazzi Aspetta Mio Benissimo Benissimo Attenzione Guarda questo, sta ancora qui Mamma mia, non cambia mai posizione Almeno spostati di qualche millimetro Aspetta No, ma questi sono tutti dei camper Guardalo come mi rincorre col coltellino Manco si vergogna Mamma mia Anche io ce l'ho il coltellino Ma per correre più velocemente Mica per fare queste cose che li inseguo Chi è che parla, no? Sto registrando Quando registro Gentilmente cerca di non parlare Io poi che levo la voce e quello mi spara No, no, questo non va per niente bene Questo è mio Ma che cazzo è? Oh, qui qualcuno è morto Aspetta, ce n'è uno là Che cazzo di fine ha fatto? Aspettate Non c'è nessuno qui Sono fantasmi, fottuti i fantasmi Benissimo, ricarica Eccone un altro No, questo che ricarica Però quando non è il caso Fanculo, va bene Ho uccisi due in tutto Per ora Aspetta, aspetta Qui c'è proprio uno Sei mio, sei mio Benissimo No, ma vaffanculo Ho po' che ricarico Quell'altro c'ha la La scheda lì Come cazzo si chiama? La scheda di presentazione di Ghost Ah, se non sbaglio La davano prenotando il gioco Mi sembra Cosa del genere Aspetta Qua se ne sbuca uno Anzi, ne sono sbucati due Ma ne uccido solo uno Ricarica, va Attenzione No, lì non c'è nessuno Sento sparare Ecco qua Sei mio, mi dispiace Mi dispiace davvero Sono sincero No, non lo sono Perché non mi dispiace Attenzione No Dove cazzo era? Si nascondeva dietro l'auto Della polizia Mamma mia Pessi Aspetta Guarda questo che salta Sembra Tarzan Ricarica Fuggi, fuggi Cioè tra l'altro fuggi Voglio dire inseguili Benissimo Da lontanissimo Ma Eccolo, eccolo Sei mio Benissimo ragazzi Concentrazione al massimo Per Joseph the Gamer Attenzione Radar disattivato Radar disattivato Sti sciocchi Cosa pensano di fare Disattivandomi il radar Come vi permettete Disattivare Il radar a me Di disattivare Ci ho messo un solo D Attenzione Io poi che Che perlustro sempre Le stesse zone Basta Adesso andiamocene un po' A spasso Random Eccolo uno Sei mio Ma si nasconde dietro Padre Pio Aspetta Sbuca da lì Devi sbucare da lì Benissimo Che poi quello Non è manco Padre Pio Ma non importa No Qui c'è il solito camper Eccolo là Ti ho visto Con la testolina Che nascondi dietro la colonna Non sapevo Che eri tu No Vaffanculo di faccia No Non è potuto Quello chi è No Da dietro no Ma vaffanculo No no Non va per niente bene Concentrazione per Joseph Gamer Aspetta Aspetta Sento degli spari Eccone uno Aspetta Corri 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 Semi o semi Non puoi fuggire Inutile che vai nell'angolino Doppia per Joseph Gamer Ricarica Benissimo Ce n'è un altro laggiù Eccolo che sbuca Eccolo che sbuca Non è possibile Lui con la pistolina Della Kikko Che mi corre incontro E riesce a spararmi Ma vaffanculo Attenzione Qua vi nemico in arrivo No no Non preoccuparti Io sono immune all'UAV No no Nessun pecco Sono immune E basta No non è vero Attenzione Uno da dietro Che mi stava sparando Attenzione Joseph Gamer Attenzione Quell'altro che mi spara Sempre Lloyd 25 Con sto cazzo di Yoshi Che si affaccia sul mare Tra l'altro No vabbè Abbiamo Poche chance Di vittoria ragazzi Ma non ci facciamo Di certo scoraggiare Fino all'ultimo secondo Combatteremo Quell'altro che mi spara Non so da che direzione Lo uccidiamo Colpa alla testa Impossibile Joseph Gamer Con i trick Che fa No va bene Lasciate perdere Sto scherzando Però cose per me Davvero impossibili Sono quei Attenzione Non sapevo Chi l'avesse sparato A quello Quindi Mi sono girato Attenzione Attenzione Sei mio Sei mio Sei mio Ma vaffanculo Non è mio Attenzione Attenzione No No vabbè Mi aveva già sparato Non potevo di certo Pretendere Una vittoria Nel conflitto a fuoco Va benissimo Tranquilli Aspettate perché Qui ho notato Degli spari Tra l'altro Mi sta girando la testa Arranciamoci Una granata Può sempre servire Infatti Joseph Gamer Colpisce ancora Attenzione La mi sembra di vedere È finita la partita Non è possibile Va benissimo Così 20-19 Non importa In terza posizione Comunque siamo Tra i primi Te Tra i primi tre Benissimo Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto È stato Cioè Piuttosto breve Una partita breve Ragazzi Spero comunque Che questo video Vi sia piaciuto Perché devo fare Tutto velocemente Spero che vi sia piaciuto Ricordate di lasciarmi piace Un commento Di iscrivervi al canale Nel caso in cui non siete già iscritti Comunque Fichissimo Sto obiettivo Da visita Comunque ragazzi Qui Joseph Gamer Vi saluta E alla prossima Ciao Ciao Tu spara Si cambia questo Devi solo sparare Tranquilla che No Sei morta Più volte Attenzione Attenzione Io continuo a sparare Ma non si distrugge Mora non si distrugge No quei Un consigliere Grazie a tutti.